E oggi, mercoledì 29, si riparte per il rifugio Cavazza Pisciadù. Attraverse o lavarse tussi, ci si incammina per il 67. Grazie. Desta, destra, destra. Allora. Paccetti un urzai. E l'ancio da piedra. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Buongiorno 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 Sì, posso essere qui? riposati fermati a riposati fermati a riposati si eee oh eee oh oh no 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 ci devi credere come vent'anni fa con vent'anni di più con vent'anni C'è una muta di rius, come on, c'è un po' Tiè, l'abbiamo fuori da l'inferno Mi piace che ero aperto? Aspetta troppo. Ah i bastoni? No, i bastoni non ci vogliono, credevo di averli lasciati lì, niente bastoni. Mi sono chiamato quando eravamo sulla ferrata. No, no, avevamo finita. Si? Si, avevamo in cibo. Ah si, qui la strada la si ripete, tu vedrai si tocca, è che rifugio. Questa è un po' di strada. Questa è un po' di strada. Occhio eh. c'è anche l'acqua l'altezza aspetta poi io davanti occhio vai indietro vai indietrino vai indietrino e anche la discesa non è meglio della salita guardate prendo bastoni guardate prendo bastoni vai no uno per uno che qui si scivola non vorrei dopo non ho fatto tutto questo comunque a salire è faticosissimo a scendere si dura molto meno fatica sì ma però è impegnativo guarda lassù come è attaccionato ancora non è belezza non è belezza c'è ancora tanto da scendere e anche questa volta è arrivata alla fine del percorso questa meravigliosa avventura ciao pesciadù grazie della bellissima esperienza grazie montagna grazie a tutti grazie a tutti